se ami lavorare soprattutto sul tuo fisico se cerchi l'equilibrio soltanto su tacco 12 se ti piace stare da sola con tutte le tue amiche vieni all'oft di foxlife a roma in milano dal 10 al 19 giugno gratis per te per saperne di più vai su foxlife.it slash the loft e seguici su facebook